La Corte d'Appello di Catania ha disposto il dissequesto di tutti i beni di Mario Ciancio Sanfilippo che era stato deciso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. Tra le motivazioni dei giudici di secondo grado vi è la mancanza di pericolosità sociale dell'editore ed imprenditore. Tra i beni dissequestrati anche le società che controllano i quotidiani La Sicilia e Gazzetta del Mezzogiorno e le emittenti televisive Antenna Sicilia e Telecolor. Per la Corte d'Appello di Catania il decreto impugnato va conseguentemente annullato perché scrivono i giudici nelle 117 pagine della sentenza motivata non può ritenersi provata l'esistenza di alcuni fattivo e consapevole contributo arrecato da Ciancio Sanfilippo in favore di Cosa Nostra Catanese. Scrive ancora la Corte non può ritenersi provata alcuna forma di pericolosità sociale né è risultata accertata e provata alcuna sproporzione tra i redditi di provenienza legittima di cui il preposto e il suo nucleo familiare potevano disporre la liquidità utilizzata nel corso del tempo.